Un ruogo durato quasi 48 ore ha parzialmente distrutto la pineta del Parco dei Comunelli nel territorio tra Gela e Butera. Vigili del Fuoco e Canadair sono stati impegnati per diverse ore. Secondo una prima stima sarebbero andati distrutti circa 50 ettari di vegetazione, in particolare nella parte alta della pineta. Le fiamme si sono alzate lo scorso weekend e a causa del forte vento si sono immediatamente estese. Per questo motivo si sono alzati in volo due Canadair che, coadiuati da diverse squadre a terra, hanno dovuto faticare non poco per domare il vasto incendio scoppiato sabato pomeriggio e che ha ripreso vigore domenica mattina a causa del vento. Il ruogo ha interessato un'area di circa 200 ettari di bosco e ha all'ambito anche la zona industriale di Butera a bruciare la pineta del Parco Comunelli che è andata parzialmente distrutta. Qui ci troviamo nella versante sud della pineta del Parco Comunelli e come vedete è qui che è iniziato l'incendio. Diversi pini ormai sono totalmente distrutti come distrutta la vegetazione dopo 48 ore di ruogo. Per tutta la notte le squadre dei Vigili del Fuoco si sono dati a fare, riuscendo a circoscrivere le fiamme. I Canadair invece sono rimasti in volo per diverse ore effettuando circa una quarantina di lanci. L'intervento dei Canadair è andato avanti per due giorni, è iniziato nel pomeriggio di sabato e è andato avanti fino al tardo pomeriggio della domenica quando finalmente il ruogo si è estinto. Ma come vedete i danni sono enormi. Il vento e le alte temperature hanno però reso più difficili le operazioni di spegnimento. In alcune zone per sì sono ancora diversi piccoli focolai. Enormi i danni lungo tutta la pineta. Totalmente stravolto è il paesaggio caratteristico del bosco di eucalipti e pini mediterranei che adesso sembra piuttosto un panorama lunare. Intaccata dalle fiamme è anche l'area attrezzata frequentatissima d'estate dalla popolazione gelese e buterese. L'incendio adesso è stato totalmente domato. L'incendio adesso è stato molto domato.